Sapete già cosa vuol dire, quindi noi indugi e generiamo il primo numero che corrisponde all'ultima leggenda, Ash. Ecco però, magari cambiamo questa skin, che è skin del nuovo evento, tutto bello, tutto figo, però nel senso, nel senso, torna la serie più attesa, più scammata, più ritardata, oddio, rimandata, di tutto il canale. Le regole le conoscerete, sono facili, ogni episodio tre numeri generati casualmente, a ogni numero corrisponde una leggenda del tipo numero 3 Lifeline, numero 8 Octane, che in verità è il numero 9, ma non importa, e appunto giochiamo una partita, che si può trasformare anche in 2-3 partite a seconda di come vanno, con ogni leggenda. Ragazzi, un bel mi piace per il sesto episodio delle leggende random, che probabilmente da questo episodio in poi non avrà più nemmeno una numerazione, nel senso, uscirà quando uscirà, almeno una volta per stagione, promesso, cioè, spero. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi, vi ricordo, un video ogni serale 18.00, descrizione, trovate Twitch, live ogni sera anche questa serale 21, e questa sera giocheremo da MK, con mouse e tastiera, passate, prima volta. Ragazzi, fatemi sapere con un commento quali altre serie storiche del canale vorreste vedere tornare, o in alternativa consigliatemi altre serie che vi piacerebbe vedere. La prima leggenda è stata scelta, è Ash, quindi partiamo con Ash, buona visione. Ragazzi, prima partita del giorno, non ho fatto riscaldamento in poligono, non ho ancora fatto merenda, ho i pantaloni, prometto tante brutte cose. Ah, ho i teammate, 5.000-8.000 kill per essere la prima partita, abbastanza on point. Eh, vabbè, i campioni. Allora, condensatore, eh, condensatore, che è una zona carina. A me sta mappa non dispiace, so che tanta gente la critica, ma secondo me per le pubbliche... E io ho una Mozambique, che è sceso un team anche sopra, e io ho sempre una Mozambique, il Ravenant è morto. Probabilmente Rich Quittera gli sta facendo l'esecuzione, per favore interrompiamo. Non l'ho interrotta, e sono ancora di mozza. Va bene, diciamo che la prima partita può andare così, ragazzi, nel senso... Un knock di mozza l'abbiamo preso. Non so se riusciremo a fare tanto di più. Au! Au, no, altro team! O è il terzo loro splittato? No! È un altro team. No! Un altro caccato! Foglie di Mozambique! E... Foglie di Mozambique. Lobby lagghina. Grande! Un'esperienza di gioco entusiasmante, veramente. Veramente un'esperienza di gioco... Madonna, non vedevo l'ora di giocare ad Apex oggi. Non vedevo l'ora di giocare ad Apex. Figliamoci sta kill. E ragazzi... Boh, prossima partita, nel senso. Uno anche da sotto. GG. Non mi posso muovere! Mi interrompe la scivolata! Ma che cosa sto vedendo? Capitemi ragazzi, una partita così non la gioco. Mi dispiace, ma... Io una partita così non la gioco. E non è la connessione, perché la scorsa partita andava liscia. La prossima andrà liscia. Era il server March. Il server con il criceto che ha ricevuto poco cibo. Allora, Mulino è un punto di interesse minuscolo, ma ci fa sempre il disastro di gente. Penso per la viola garantita. Visto che ci sta una viola garantita. In teoria, vero? Vero che mi dai la viola? Vero che mi... Ehi, la ciaone bellissima. Sono due team davanti? Mi sa che sono due team davanti. O si sparano tra di loro in modo simpatico. La viola! La mia viola! Ma io volevo la viola, però. E... Qua davanti? No! Volevo prendere il triple. No! Cosa sono queste brutte hit? Va bene, va benissimo. Vieni qua. Facciamo così e... Vi ricarichiamo l'avoc. Vi fate confermare? No, perché a sto punto almeno mi piglio qualche colpicino in più. Ragazzi, vi giuro che ne sento. Vi giuro che ne sento. Ok. Eh... L1? No, L1. Ma fra che fai all'angolino così? Mica! Che fai? Ma sapete anche che ho hash e quindi posso pingare le casse della morte? Nessun aggressore è vivo. Fantastico! Ma quanta gente è morta, parometro! Perché non siamo andati là? Ragazzi, ho i compagni che sono rimasti là a sparare ai draghi. E riescono anche a farsi uccidere! Non dai draghi, immagino. Da qualche individuo che li ha sentiti sparare ai draghi. No. No, raga. Ragazzi. Salvatevi. Inventate qualcosa. Veramente! Veramente gli faccio 188 e me lo rubi! Buono! No! No! Di quanto, peccato. Due contro tre! Dov'è il terzo? Dov'è il terzo? Dov'è? Mi sto ricordando perché la posticipo sempre questa serie. Quattro partite in tipo due minuti di video. Ne ho uno davanti. Sì, no. Sì, no. Forse un po'. Perché questo fumogeno? Madonna, Madonna, Madonna. Madonna, Bangalore. No! Bro! Sono qua! Non mi hai visto? Ma sei dolce. Sei dolce. Sei dolce, te lo giuro. Sei dolce. Sei dolcissimo, sei. Allora, fammi prendere qualche conferma che qua ne ho noccati diversi. Fra, ho zero colpi, ti prego. Ti devo confermare così. Mi dispiace, ma ti devo confermare così. Mi dispiace, non è per cattiveria. No, ha zero colpi pure lui. Che brutta storia. Mi sa che Lock Team è braccato anche da un altro team. Ah! Ah! No, via. Oddio, che portale brutto. Vabbè. Va benissimo. Va benissimo. Mi sa che c'è Lock Team in solo e c'è un altro full team. E a noi non piace l'altro full team. Ragazzi, ho bisogno del vostro supporto morale. Buono che arrivo? Buoni che arrivo? Fate qualcosa? Ok, uno ho noccato. Vai indietro che ne hai noccato uno, i C1. No! La porta chiusa! Volevo farlo sopra, volevo. Ragazzi, qua bisogna essere realisti. Bisogna capire che oggi non è giornata di Ash, ma è giornata di... Allora, 17. Ash meno uno fa Seer. Seer meno uno fa Valkyrie. Bisogna capire che è giornata di Valkyrie. No, scherzo. Secondo me oggi non è giornata di nessuno. Non è giornata né per il gioco né per la vita. Se con questa nave non l'endoi a barometro, sinceramente sei una persona abbastanza triste. Noi non vogliamo essere persone tristi, nonostante siamo molto tristi. E quindi andiamo a barometro. C'è gente? Per favore! Per favore! Cioè, l'endo io a barometro non ci va nessuno? Mi vuole veramente così male la vita? Sono due team diversi. No, da sinistra che vuoi? Godo! Così, con l'L1 a random. Dai! Ragazzi, qua... Bisogna andare. Qua bisogna andare. Buonissimo! Buonissimo! In che senso una kill sola? Oh! 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 Fammi prendere la conferma. Grazie. T'aiuto? Ora t'aiuto? Dimmi che l'hai lasciato one? Non l'hai lasciato one? Ma! Pensavo fosse sceso! Pensavo fosse sceso! Vi giuro pensavo fosse sceso. Uno scudo bello? Io non usando Valk non ho idea dell'autonomia del suo jetpack. Nel senso, ci arrivo lì sopra. Ehm... Boh! Non me la rubi la kill. Grazie. Gentilissimo. Gentilissimo. Vado a responare? Se non ci sta gente... Volentieri dieci colpi pesanti. Madonna, che tristezza. No, fra arrivo ad aiutarti. No, 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 no. Lo swap! Ah! Pulliamo! Aiuto, 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 aiuto! Non mi serve più aiuto? Ora forse sì? Ora forse sì? Ne sento più di uno, non mi piace. Ma... Allora, lui stava in solo decisamente? Ma non sto capendo! Il cripto! Ma tu dove stavi poi? Da dove sei comparso? Vi giuro, ci stavano altri passi, ve lo giuro. Ragazzi, arrivati a questo punto, nel senso... Io lo voglio trovare. Ciao! Ti dispiace se prendo il cannone con te? No! Bugia! Ma è un ascio, non è un cripto, però. Mi serve aiuto. Ti prego! No, non l'ho colpita. Raga, non facciamola scappare! Non facciamola scappare! Mia! Oh, una partita decente, finalmente, madonna! Mi sembra di sognare, ve lo giuro. In tutto questo io voglio trovare il cripto. Che fine ha fatto il cripto! Me lo dai un craberino? No, vabbè, primo anello. Che poi, una delle cose belle di Valk, che avete visto qua, nella nuova mappa almeno... No, perché la corazza? Piliamo questo che ci servirà. È che puoi uscire dai cannoni con la passiva. Che bella la zona di Frawler, sempre un piacere. È lutata? Guarda come... Eh, no! Eh, appunto, guarda come non è lutata. Chi ci lenda in sta zona? Loro, 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 loro. Mi lamenterei di queste armi, ma non posso perché effettivamente sto giocando la Rampage, quindi... Ho da starmi un po' zitto e muto. Ragazzi, ci leviamo, per favore, prima di farci completamente annichilire? Hanno beccato un altro team? Allora, voliamo via... O facciamo third party? Cioè, o stanno combattendo con il re supremo dei Prawler, o... Buonissimo! Ci rubiamo qualche kill? No, assolutamente no. Ora spawn portatili, oh! Vieni qua! Zitto, zitto, che l'ho detto che sarebbe servito. Ok, molto buono. Molto buono, se me lo dovete chiedere. Sinceramente molto buono. Un altro team ancora qua! Questo non mi piace. Questo non mi piace. Qua ne avevo noccato uno. Ve lo giuro, ve lo giuro, ne avevo noccato uno. Blody dietro, però... No, no, altro full team dietro, è diverso. Noccato uno dietro. Sta restando qua. Quando volete? Quando volete qua, quando volete qua. No, è full team. Ne ha restato i due, un altro team ancora. Mi dispiace lasciare i compagni così, ma... O li mollo o ci muoio io, direi che è meglio mollarli e sopravvivere. Mi dispiace. Penso che i team... Erano due a terra di quel team là! No! Cioè, essere tristi per il Krabber è grave, però... In questa situazione... Lo so, fratello, lo so. Fidati! L'ho capito. L'ho capito questa gente, ma... Mi dispiace. Mi dispiace. E se recupero e scappo? Sei morto qua, va bene. No, non ho la ulti... Non ho l'ultimate, ma... Può avere senso. Quello là viene restato palese. Vediamo se così faccio qualcosa. No, ragazzi, devo andare in safe. Penso sia lontana. E più che altro... No, non è lontanissima, ma è la terza. Sicuro arrestato. Ho colpito di nuovo. Dai! Di nuovo! No! Che peccato! Che peccato, che peccato! Madò! Fosse partita due secondi prima la safe, la Brit finiva confermata. Peccato. Peccato, peccato. Peccato, l'ho già detto? Peccato. Ma raga, si può... Cioè, io vi voglio bene, però... No, niente. Vi voglio bene. Ultima leggenda con cui devo portare a casa la vittoria perché non ho mai fatto un episodio di leggende random senza una vittoria. Non voglio che sia il primo, per favore. Quindi! La numero otto, che è Mirage. Me lo ricordo che è Mirage. Sarà la leggenda che ci porterà la vittoria. A.K.A. Sono alle strette, ne voglio vincere una. Gioco con Mirage. Finché non ne vinco una. Oh, cambio di mappa. Siamo su World's Edge. Ti prego, l'enda, prima o poi. Mi vuoi portare a Capitol? Ti prego, ti prego, ti prego. Mi vuoi portare a Capitol? Ti prego. Gita romantica Capitol con Lobay Lifeline. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ciao Lifeline, vuoi condividere con me le casse? Io ho trovato zero armi. Zero armi anche qua. Tre casse, zero armi. Fantastico. Piano terra di questa casa, zero armi. Primo piano di questa casa, zero armi. GG. Bella partita. E sento un avversario dietro. Mi fa piacere, mi dai un'arma? Una P-20-20. Mi dai un'arma seria? Un arco. Mi dai un'arma seria? Per favore? Va bene. Va bene. Va bene. Va assolutamente bene. Un knock l'abbiamo prea. Oddio, stavo per cadere. Io faccio quello che posso, ma... Che tilt, ragazzi. Ero così felice ad essere sceso a Capitol. Madonna. Madonna, mi è sceso tutto, Madonna. Capitol Party 2. Allora, dall'alto dei miei 18 colpi vi posso dire che non sono in una bella situazione. Ti prego? No. Haha. Haha. Round 3, eh? Round 3, eh? E poi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Spero. Cioè, spero non più di 9. Grazie, grazie, grazie. No, vabbè, troppo gentile il gioco. Troppo generoso. Primo piano della casa, zero armi. Zero armi? Mozambique. Ma ci sta. Zero armi. Piano terra. Spottato dal blotti. Zero armi. Flatline. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cos'è questa cattiveria gratuita? Quale sarà quello vero? Ma girati e gioca con me. Girati e gioca con me. Compagno che rage quitta. Grande, fra. Grande. Fra. Sister. Fear Lucy. Penso sia una sister. Grande sister. Complimenti, complimenti. No, bro. Era un'esca quella, bro. Twitch Potato. Capito. Anche questa un'esca. Oh. Ok. Allora. No. Buono. Ah, oh, buono. No. No, no. Oh no, scivola. Scivola. Oh. Scivola, scivola, scivola. Cosa? Cosa? Go con round 4. Madonna. Raga, sempre divertente Capitole. Cioè, oddio, quantomeno mi sto divertendo in effetti, però. Grande Horizon, immaginale andare, fare 50 danni, morire e leftare la partita. Sapete che Leggende Random è una mia sessione di gioco pulita. Cioè, negli altri video vi metto solo le vittorie, le partite belle, pare che vinca sempre. Mentre qua vi metto le partite all'inizio che fanno schifo perché sono quelle di riscaldamento. Ancora non ho preso la mano. Vi metto le partite andate male e capite che anch'io quando gioco coi random vivo la vostra stessa sofferenza. Purtroppo, cioè, è tipo un'ora che gioco e non vinco. Oh, però è tornata Warsage, ma se andiamo avanti così torniamo su Stormpoint, ma torniamo pure su Olympus, torniamo su King's Canyon, scopriamo la prossima nuova mappa. Buona questa? Meimira spalese. Meimira spalese. Dammi le tue cose. Ha quittato, vabbè. Era scontato, nel senso. Non quittare tu, non quittare tu, non quittare tu, siamo vivi. Per favore. Save rate, anche se non viene confermata vai semplicemente a terra, ho paura. Ho legittimamente paura. Cioè, io l'ultima volta che ho risponato a un random, penso, otto anni fa perché non li puoi risponare. Vanno a terra quitta, non li puoi risponare. Ah, perché è stato là? Finiti i colpi. Eh, GG only l'ombo. Dai, uccidimi, vai. Sono disperato ormai, fai di me quello che vuoi. Che compagni mi ha dato stavolta? Non ci lamentiamo, quello che passa in convento, accettiamo. Dove sta restando qua? Mi dispiace, mi sento cattivo, ma succede, nel senso. Ok. Ok. Leader uccisioni eliminato, livello 5. Mmm, Smurfino, che poi contando che ci stiamo noi, ci sta questa Brit con le 20 bombe in 4K, mi sa che il bello Smurfino si è trovato nelle lobby normali dopo una partita. GG. Raga, lo Smurfino nel 2021 ha zero senso. Cioè, un paio d'anni fa, ancora ancora, fino al livello 10-20, ti lasciava nelle lobby facili. Adesso hanno migliorato e ti detecta l'account, ti detecta il fatto di essere uno Smurf dopo letteralmente una o due partite. Cioè, boh, no, quale sarà quello, vero? Ehm, hai sbagliato nel dubbio. Così nel dubbio hai sbagliato, non so se ci hai provato effettivamente, ma hai sbagliato. E lui invece, campione mondiale, ti indovina qual è quello vero. E lo ha reso in di prima. Dammi la rossa, velocissima, velocissima, grazie. Dammi questo, dammi questo, dammi questo. Proviamoci, con zaino oro sarebbe un pelo più carino, ma va bene. Voglio capire dove stanno. No, l'ho capito troppo bene, l'ho capito troppo bene, l'ho capito troppo bene. Ti prego, vai a terra, io una capi... No, 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 di quanto. Ragazzi, ho legittimamente dei compagni carini, però ho zero colpi. Ehm, ok. Compagni carini, ma zero colpi, non so quale delle due vinca. Vieni, 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 vieni da me. Ho bisogno di colpi. Non lo so, così a occhio e croce la situazione non mi fa impazzire, è morto D'Anello. È morto D'Anello. Uno a terra, uno a quittato. Uno a terra, uno a quittato. L'Abrita ha quittato, lo sapevo. Non può essere che un Abrita non quitti. Prima o poi doveva succedere. Non siamo tutti nell'Anello, ma la usate la mappa. Ah, mio. Va bene. Krabber. Oddio, però. Sì, tengo il Mastiff perché dell'altro non ho zero. Quindi nel senso... No, per favore. Per favore, no, non dobbiamo fightare, non dobbiamo fightare, no. Allora, dobbiamo pregare che non ci laserino ed entrare col palloncino, tipo adesso. Se non entriamo col palloncino non entriamo più, eh. Ti prego, capiscilo, capiscilo. Capiscilo, sei bravissimo. Buttiamo un'esca, così si spaventano. Lui mi sa che in safe non ci entra. Oh, questo fantastico presentimento. Ok, buonissimo. Sono a terra di entrambi i team. Di questo ne sono sicuro. Poi quanti di ogni team non so. Però a terra di entrambi i team, garantito. Hanno finito? E uno è noccato. No! No, raga, non ci credo. Lo sta restando... Pad è disconnesso mentre sta restando l'avversario. Ragazzi, questo è il tilt supremo. Cioè, oggi... Oggi veramente devo impazzire. Dammi uno soft qualsiasi. Madonna, madonna di Dio, madonna. Cioè, io quando mi si disconnesso il pad là mentre restava, l'ho detto. Cioè, oggi deve andare così. Oggi deve andare così. Non c'è niente da fare. Cioè, quando capisci che la giornata è storta, lo capisci da queste cose. Cioè, pad collegato wireless. È carico, è carico. Cioè, guardate. Non lo fa vedere. No, non posso vedere la carità del pad. Ve lo giuro, è carico al massimo. Anche perché sei riconnesso e non dà segnali di batteria scarica o altro. E... Grande Vrate. Gigi, godo. Godo. Ragazzi, penso si sia capito. Non penso ci sia bisogno di esplicitarlo. Ma è stato un episodio molto faticoso. È sempre faticoso giocare coi random. Questa serie è nata coi random. Voglio portarla avanti coi random. Ma giocare con leggende che non sono le tue preferite coi random, nonostante... Mira, ci mi piaccia. È un po' così e si è visto. Sono riuscito a vincerni una dopo un'oretta e mezza. Un'oretta e tre quarti. Facciamo anche quasi due ore. Spero che almeno voi vi siate divertiti. Se è così, un bel mi piace al video. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi di questa serie. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per Twitch. Vi aspetto questa sera alle 21.00. E ci vediamo in un prossimo video. Ogni sera alle 18.00. sicuramente non un episodio di leggende random. Sicuramente leggende random tornerà quando non c'è dato saperlo. Lasciatemi un commentino, ragazzi. Raccontatemi di vostre esperienze storte coi random. Visto com'è andata. Risollevatemi il morale. Alla prossima.